Ehi la ciurma, io sono sempre mazzetess e benvenuti in questo nuovo episodio di Imperator Room Allora sarei davvero interessato a vedere se riusciremo poi a trovare dei mercenari perché Avremo bisogno di mercenari, avremo bisogno di mercenari perché stavo valutando che non è infattibile forse riuscire a prendere tutta la fascia Fin là, se abbiamo un numero sufficiente di truppe mi vogliono prendere da sotto Mi spacco eh, guardate che vengo a spaccarvi di brutto Eeeh Però mi sa che rischiamo di finire le risorse prima Sì, dacci dei soldi, i soldi ci servono in questo momento storico Eeeh Han troppe truppe, han troppe truppe Comunque vuoi vederla, la situazione han troppe truppe Eeeh Che sono tutte queste offerte? Vada, vada Vadi Voglio dei soldi Sono tanti Io non capisco come facciano ad avere così tante corti Non finire il manpower Ah, io ci vengono dentro No Fate solo la mossa Cosa Abbiamo vinto così a caso Non ci siamo neanche accorti Sono in 97.000 là sopra Questa non è per niente una bella cosa eh Allora Eeeh Ok, la stanno andando Acqua lì Brutta fregatura Cerchiamo di prendersi da più lati contemporaneamente Allora, farei una cosa Questo E questo li muovo su Questi li muovo qua E Questi anche Dove? Qua Qua, ok Questi qua potete fermarvi Cavolo Allora, là sono 106.000 Quindi non posso neanche sottovalutarli da sopra Eeeh Intanto andate in qua Marce forzate Marce forzate E ragazzi miei si va a ballare Marce forzate E Bilanciate Che biola stanno perdendo Marce forzate Marce forzate Marce forzate Marce forzate E resistete Porca miseria 5 marzo Ok Ok, abbiamo vinto l'assedio qua Ma non mi conviene avanzare Con questi 114.000 Che mi stanno guardando Abbiamo preso l'assedio qua sotto Gli assedi qua sotto Sì Ah La battaglia di preseppoli L'abbiamo vinta Per fortuna Perché temevo davvero Per questa No, muovete Muoviamo tutti qua sotto Ogni truppa Che riusciamo a risparmiare E una guadagnata Yes No, questi Date in su di qua Perché Temo che Mi arriveranno molto presto Alle porte Quegli altri Ok Ok, la stanno bene Ok Atterrito ma non troppo Allora Se ne stanno spostando via 83.000 Non so dove Abbiano intenzione di andare Ma Togli le marce forzate Qua dobbiamo togliere Tutti le marce forzate Perché sennò Ci mettono davvero Molto molto più tempo A recuperare Il Aia Tutti Ragazzi miei Tutti in difesa Tutti Tutti Reggete Reggete Per favore Ragazzi miei Continuo ad avere Tantissimo Tantissime truppe Non hanno più manpower Però sono altro Quindi magari sono delle corti virtuali Perché le corti Continuo a contartele uguali Anche se non ce l'hai più In realtà Per cui magari dice Che sono tantissime Ma non esistono più Vediamo se riesco ad avanzare Un pochettino da sotto Si stanno muovendo Ottimo Allora Spezziamo un po' le truppe qua Perché Sennò ci esplode Di attrito Il tutto Sì Prima di arrivare là Ciao Mi sta venendo addosso qua Occhio eh Ah no Adesso sopra vengono Van sopra Sì Van sopra Mannaggia Oh è una guerra davvero Super super pesante È molto impegnativa Però Sembra che ce ne la stiamo facendo Sul serio Vai Sto accettando tutto Praticamente Ma Datemi robe Quando 1265 giorni Saranno passati Ecco I miei nemici Il costo Che non è male L'abilità di assedio Va bene Mille giorni Quindi ancora due anni Abbiamo circa Per starci dietro Questo Beh voi andate qua Che male non fa Perché in questa zona qua Tanto dobbiamo Avanzare Dobbiamo avanzare E farci una striscia In qua Per andare Qui su Porca Mannaggia se ne ha presa Di roba Alessandro Voi avanzate Anche Voi Avanzate L'unica cosa Che rischio Poi di avere Una tregua Che dura Trent'anni Praticamente E finisce il gioco Senza che riesca A prendere quelle province Allora Vada Ok Questa è vinta Tre Ne muoviamo tre di là Due Tre Uno Due Uno No Di questi qua Vada Mi sembra una buona cosa Aia 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 Sono tantissimi Qua sotto Ne hanno spostato Un bel numero Ma cosa vuol dire Che vinciamo Come possiamo vincere Se ce ne stanno muovendo Uno svarione addosso Ah no Ecco Incerta La situa Questi potrei anche assumere Va Credo che non serviranno a niente Però Tanto soldi ne abbiamo Non dovrebbe essere un problema I nostri soldi Voi due Andate la sotto Voi due andate la sotto No La perdiamo La perdiamo tantissimo Quella Facciamo che fermarci Con questo Di nuovo Sti barbari Dove che vanno A filateris Ottimo Dove ho già Le truppe No Qua la perdiamo Tantissimo Però beh dai Non è grave In realtà Perché se ci prendono Da sedio Quale zone là Chi se n'è Non sono così Importanti Eh infatti Ce l'hanno preso No Cosa Filo Filoteris Boh Ah tanto qua Abbiamo ancora questi Che possiamo Muovere Per prendere Le province Che ci hanno assediato Perché sono Del manpower Gratis Cioè no Del manpower Del Victory score Gratis Per loro Ah no I barbari Ok I barbari Erano a filoteris Eh Là l'abbiamo Persa Però non c'era Molto che si potesse Fare Effettivamente Vediamo se Posso Aggiungerci Questo E Questa Roba Sì L'unica cosa Non mi dice Fino a quando Sarà attivo Il discorso Poi in una guerra Non penso di riuscire Ad arrivare fin qua Però devo per forza Farne un'altra Non ho altre opzioni Allora facciamo che Questi rimuovo là Tanto per Ma com'è che hanno tutti Sti soldi Dove li hanno presi Dove ho preso Tutti sti soldi Siamo riusciti A liberare Questa zona qua Dov'è che Sì Liberata è ancora Questa Quali navi come siamo Siamo ancora in alto mare Con le navi Ehm Pappero Vorrei proprio solo Fare una striscia Riusciamo a fare Una striscia In qua Hmm Arrivare Ad Alexandria Caramania Così a caso Li muovo proprio È molto dubbiosa La situazione qua Perché sono davvero Tanti Che ci stanno Muovendo addosso Dai 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 Mi sa che la perdiamo Di brutto Riuscite a Ridirezioniamo la gente Cioè è bello Alexandria Ma se qua ci perdiamo È un casino Dai 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 Kaiser Questi ci si schiantano Sì Vai Ancora con ste olympiadi Ce la si fa Che storia Là sotto tra l'altro Ci Ah no Stanno salendo in su Ma sono solo in 10.000 Come sono andati Gli altri Bleh Eeeh Vediamo davvero Se riusciamo Ad arrivare All'Alexandria A caso Proprio così Quanti giorni abbiamo ancora No beh Siamo a metà Vediamo Qua se ci Darebbero No quello Non mi interessa Dammi piuttosto Questo 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 Sì Mi dà parecchio Aggressive expansion Ma Dovremmo riuscire ancora A reggerla 21 minuti Ma vorrei far Durare un pochettino di più Questo video Per Concludere tutto Allora Dove è che abbiamo vinto Qua Ottimo Ah Mi stanno venendo Tutti addosso Qua però Non vorrei dire Non più Non più Ah Ops Non avevo visto Come stavano Venendo addosso Là Ma Dove stanno andando Perché non mi stanno Toccando più Boh Ah perché Ho i miei Stupidi mercenari Qua Bloccatevi Nelmente Ok Quale è stata Presa Vada Mi dà No ma è meglio Non prendere tutto Mi dà solo Della Pace inutile Che non voglio No però Se posso arrivare Fin laggiù Eh prendiamo Questa fascia Qua Così che Cioè abbiamo Tutta questa guerra Solo per prendere Questa roba E dobbiamo ancora Arrivare Quassù Ma Non riesco Neanche a Cliccarci Sopra Quante Da quante Provincia Mi ha dato Vada Viene Delle troppe Esiliate Qua Vabbè Adesso Mi spartirò Tutto con calma Vi ringrazio Per la visione Vi auguro Una buona Giornata A tutti Ciao A A A A B Siamo A A B Grazie a tutti.